cold wallet il metodo migliore per proteggere le tue cripto valute buonasera a tutti ragazzi e ragazze o buongiorno dipende da quale parte del mondo mi seguite bentornati su club 6 cripto io sono mg mattia e oggi siamo in realtà giunti al primo episodio alla prima lezione al primo video chiamatelo come volete di una serie di video particolari perché considerato il momento effettivamente schifoso parliamoci chiaro considerato il momento schifoso che stanno attraversando le cripto ormai da tempo ho intenzione abbiamo parlato insieme a morris a samu abbiamo parlato che è necessario sicuramente portare una serie di video che racchiuderemo molto probabilmente anzi sicuramente in una playlist dedicati al modo che abbiamo di aiutarvi ovvero per capire che cosa sono i cold wallet capire come proteggere le proprie cripto capire come magari evitare gli scam evitare rag pull studiare bene i progetti quindi abbiamo intenzione di portare una playlist di questo tipo oggi è il primo effettivamente video dedicato a questa playlist qui parliamo dei cold wallet vi dico già che sarà il primo di due parti perché effettivamente ho dovuto necessariamente vivere e dividere il video dei cold wallet in due parti perché altrimenti sarebbe fuori sarebbe venuto fuori un video enorme ok spropositato quindi l'ho dovuto necessariamente dividere in due parti la seconda parte uscirà quando effettivamente mi darete i vostri feedback ok quindi qui sotto nei commenti mi raccomando lasciate i feedback e fatemi sapere soprattutto fateci sapere cosa vi interessa perché ovviamente è una playlist ok è un argomento un topic che andrà avanti soprattutto grazie ai vostri commenti quindi per sapere che cosa vi interessa cosa volete di cosa volete che parliamo e ovviamente cosa volete conoscere cosa volete approfondire quindi mi raccomando fatemelo sapere sotto nei commenti nel video di oggi parleremo del cold wallet bene ma cos'è il cold wallet andiamo subito è un mezzo sicuro utilizzato per archiviare criptovalute su una piattaforma non connessa ad internet quindi questo qua è veramente una definizione precisa veloce è un metodo sostanzialmente più sicuro per archiviare per depositare per detenere le vostre cripto in maniera però attenzione non parliamo di hot wallet ok di cui parleremo ok parleremo fa sempre parte di questa playlist ma è veramente un wallet totalmente freddo quindi non connesso ad internet offline di conseguenza più sicuro questo il fatto di non essere sicuro ci dà protezione da attacchi hacker in primis ovviamente protezione dalle possibili vulnerabilità che effettivamente può avere ad esempio una piattaforma che invece è online ok è ovviamente la protezione da accessi non autorizzati è utilizzato da tutti i tipi di investitori nel settore quindi non solo ed esclusivamente noi che possediamo le nostre cripto e le vogliamo mettere al sicuro ma ad esempio anche gli exchange stessi posseggono molta parte delle loro cripto e delle loro riserve all'interno di cold wallet per evitare proprio ad esempio attacchi hacker ovviamente gli exchange in generale o comunque le piattaforme di trading o comunque le piattaforme che diciamo circolano ruotano nell'ambito delle cripto è normale che siano diciamo sotto attacco hacker molto di più rispetto a noi ok di conseguenza anche loro anche binanza ad esempio tutti gli exchange che conoscete usufruiscono di cold wallet ma capiamo effettivamente cos'è un cold wallet e soprattutto come funziona dopo vi farò un esempio banalissimo di come avviene un trasferimento ok ad un wallet sono associate due chiavi queste sono fondamentali abbiamo una chiave pubblica e abbiamo una chiave privata tra l'altro in questa playlist usciranno anche dei video su quali sono i migliori cold wallet con quali sono i migliori effettivamente magari anche hot wallet come configurare i wallet quindi veramente spazieremo da a a z per cercare di prendere ogni punto sensibile del mondo cripto che magari anche molte altre persone non fanno quindi abbiamo associamo due chiavi sostanzialmente una pubblica e una privata la chiave privata attenzione è quella che non devi dare assolutamente mai 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 a nessuno la chiave privata è tua mi raccomando questo è fondamentale è una chiave assolutamente segreta è una stringa univoca di caratteri alfanumerici necessaria per accedere ai dati cripto grafici è come se fosse una sorta di password ok è una chiave privata per accedere effettivamente alle tue cripto per accedere alle tue cripto per vedere qual è il tuo con il tuo saldo per vedere anche magari anche semplicemente per fare dei trasferimenti è necessaria la chiave privata questa ti verrà data nel momento in cui acquisterai o comunque configurerai il tuo cold wallet ne parleremo nei prossimi video non ti preoccupare la chiave pubblica invece banalmente possiamo dirlo come scritto qui è simile ad un nome utente un indirizzo email ed è necessaria per identificare la destinazione quindi mentre facciamo un esempio dobbiamo fare un login ok quando facciamo il login abbiamo il nome utente e poi la password ecco il nome utente è la chiave pubblica quindi quando ad esempio una persona deve fare deve farti comunque un trasferimento di cripto deve inviarti delle cripto banalmente anche devi inviare le cripto la chiave pubblica è fondamentale perché tramite quella riesce effettivamente a prendere l'indirizzo ovvero l'address del wallet cripto verso il quale dovrai fare il trasferimento la chiave privata invece serve per accedere proprio al tuo wallet al tuo portafoglio e da lì poi successivamente fare il trasferimento quindi banalmente quando una persona vuole fare un trasferimento di denaro o un trasferimento di cripto in questo caso cosa avviene c'è uno scambio di chiavi pubbliche ok il pagante quello che dovrà fare il pagamento dovrà inviare le cripto immette l'address cripto del ricevente una volta che ovviamente il trasferimento è stato accettato dalla blockchain eccetera eccetera il ricevente potrà accedere al suo conto potrà accedere al suo wallet solo ed esclusivamente con la chiave privata quindi quella è fondamentale così come la chiave pubblica che ripeto può essere pubblica proprio per questo motivo quindi è condivisibile quali sono invece le caratteristiche dei cold wallet in primis come possiamo leggere diciamo sono andato un po abbraccio non richiedono terze parti ok mentre ad esempio i custodi al wallet come ho scritto a destra sono necessarie terze parti o comunque broker o comunque exchange che hanno il controllo sopra effettivamente le nostre cripto noi non possediamo le nostre cripto qui non ci sono terze parti qui l'abbiamo noi noi proprio fisicamente all'interno del nostro wallettino ok seconda caratteristica c'è la possibilità è in realtà è così di creare un seme comunque un seed una seed phrase per ripristinare le chiavi nel momento in cui magari vuoi cambiare le chiavi e sempre dopo aver configurato il tuo wallet avrai la possibilità di farlo tramite la seed phrase ovvero la frase seme sostanzialmente che ti è stata data nel momento in cui hai configurato il tuo wallet tramite quella è ovviamente un processo è possibile ripristinare le tue chiavi quindi fondamentale terzo protezione e sicurezza totale ovviamente adesso dopo vedremo anche la differenza tra hot wallet e cold wallet proprio banalmente la protezione qui è sicura totale ok c'è una protezione al cento per cento quasi quasi ovviamente nulla al cento per cento però c'è una protezione una sicurezza molto più elevata questo perché 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 in primis come ho detto tramite questa sicurezza è possibile immagazzinare grandi quantità di denaro nei wallet in maniera assolutamente efficiente e sicura e poi proprio per questo motivo ovvero le chiavi non accederanno mai ad internet avverrà sempre in maniera tutto completamente offline e questo è fondamentale è fondamentale perché una volta che una cosa entra nella rete entra online effettivamente è attaccabile ok puoi avere tantissime magari la password più difficile del mondo da hackerare ok però il rischio di essere hackerati c'è sempre il rischio di subire un attacco c'è sempre nel momento in cui invece le chiavi non accedono mai ad internet questo rischio effettivamente si azzera quasi e poi sono utilizzabili ovviamente sulla maggior parte dei device quindi queste comunque sono caratteristiche sono ottime caratteristiche a favore del cold wallet esistono principalmente due modi per conservare le cripto ovvero il cold wallet e gli hot wallet nelle nelle comunque esistono principalmente due modi per conservare le nostre cripto il cold wallet e gli hot wallet non ti preoccupare non vi preoccupate perché comunque nei prossimi video approfondiremo anche nei cold wallet perché esistono diversi tipi esistono di diverse marche quindi lo vedremo proprio per filo e per segno dalla a alla z adesso effettivamente andremo a vedere le differenze tra cold wallet e hot wallet gli ultimi come ho messo qui come ho scritto qui sono sempre connessi ad internet e sono ad esempio le app o i wallet degli exchange le differenze principali sono tre e tra l'altro qui quattro in questo in questo grafico inserito qui a destra in cui le anticipate sostanzialmente ma andremo a vedere in primis c'è il costo ovvero gli hot wallet sono gratuiti nella maggior parte dei casi ad esempio la maggior parte degli hot wallet quindi app che puoi trovare o i wallet degli exchange sono gratuiti ok quindi sotto il punto di vista del costo sicuramente c'è un punto in più per gli hot wallet perché perché effettivamente non c'è bisogno di pagare per ottenerli la convenienza ovvero gli hot wallet sono più semplici e come c'è scritto anche nel grafico a destra sono più user friendly ok perché perché effettivamente sono più semplici da utilizzare per l'utente non devi aspettare tanto tempo sono più veloci sono adatti anche per le transazioni del giorno stesso quindi in generale sono più convenienti da utilizzare per transazioni veloci e comunque anche a livello di costi però la cosa che effettivamente cambia la sicurezza perché la sicurezza dei cold wallet è ineguagliabile la sicurezza dei dei cold wallet è ineguagliabile e l'ho già spiegato prima non c'è bisogno di rimanere ancora su questo punto perché veramente poco da dire i cold wallet sono a livello di sicurezza inarrivabili ultima cosa per il video di oggi mi raccomando fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e cosa comunque ti interessa legato a questo mondo assicurati prima di comprare un cold wallet che le cripto siano supportate perché perché non tutte le cripto sono supportate nei cold wallet ok normalmente diciamo che ho fatto un video anche sul mio canale ma qui anche ne usciranno altri sono quelle con maggior capitalizzazione di mercato quindi ad esempio bitcoin ethereum ada anche litecoin quindi attenzione prima di comprare un cold wallet c'è comunque la scheda nel sito controlla mi raccomando prendili sempre dal sito ufficiale e controlla effettivamente assicurati che le cripto che possiedi tu che ha intenzione in realtà di mettere nel cold wallet siano supportate detto questo spero che questo video ti sia stato utile ti sia piaciuto ti ricordo di farmi sapere nei commenti cosa ne pensi ciao ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale